in questi giorni siamo al carcere delle vallette qui a torino dove stiamo svolgendo un laboratorio di musica rap con i detenuti quindi non un carcere minorile ma una casa circondariale stiamo lavorando con gli adulti che cosa stiamo facendo insieme siamo nella biblioteca del carcere quindi uno spazio molto bello molto legato alla cultura in un certo senso uno spazio libero anche per i detenuti e stiamo facendo tre cose stiamo scrivendo insieme una canzone rap la stiamo registrando e stiamo girando il videoclip della canzone i detenuti sono protagonisti di ciascuna delle fasi di questo processo creativo quindi in ciascuna delle tre fasi ci sono i detenuti protagonisti non soltanto ovviamente come oggetto ma assolutamente come autori quindi l'argomento è stato scelto dai detenuti lo svolgimento dello stesso e chiaramente stiamo lavorando appunto alla registrazione al videoclip il nostro obiettivo non è tanto avere un risultato di qualsiasi tipo anche se chiaramente ci fa piacere avere un videoclip ed avere una testimonianza quanto concentrarci sul processo di scrittura sul processo creativo e far passare chi è dalla parte di coloro ai quali viene detto per una volta dalla parte di coloro che dicono quindi dalla parte di quelli che sono con la capsula del microfono che possono dire qualcosa e che possano a merito hanno di essere ascoltati adesso è uno tra i canti impara l'umiltà ora trova il coraggio di affrontare certi errori riallaccia anche il rapporto perso con i genitori rispetto a tante altre forme di espressione a tante altre forme di comunicazione tante altre forme di musica il rap ha delle chiavi molto interessanti e molto particolari che ci consentono di entrare in questi contesti prima di tutto non devo spiegare ai giovani detenuti ai giovani in generale che cos'è il rap dico oggi facciamo quattro strofe a testa oggi facciamo freestyle oggi ci scambiamo un paio di barre loro capiscono immediatamente di che cosa sto parlando sono nativi di questa forma di espressione quindi non devo spiegarlo a loro ma spiegata a chi ci fa entrare in carcere ma questo è un altro paio di maniche e poi c'è la democraticità dell'accesso se io facessi un laboratorio di musica rock dovrei portare dentro gli strumenti a accordarli ci vorrebbe qualcuno che sa suonare qualcuno che sa cantare magari anche qualcuno che sa leggere la musica ecco con il rap non è così basta portare il computer collegarlo a una cassa con le basi e possiamo già metterci a lavorare non serve nessuno che sappia cantare addirittura non serve nemmeno saper leggere e scrivere in passato mi è capitato di lavorare con dei ragazzi completamente analfabeti però con la testa e la bocca che funzionano e da questo punto di vista è un mezzo di espressione straordinario e poi c'è il contenuto che è quello che racconta al meglio certo nel bene e nel male ma è quello che racconta al meglio gli anni che viviamo l'accoglienza che abbiamo ricevuto al carcere delle vallette è stata straordinaria un bellissimo entusiasmo una bellissima sensazione di essere abbracciati da questi ragazzi e poi ragazzi e meno ragazzi perché ci sono anche degli over 40 nel gruppo di diversa provenienza di anche di diversa ispirazione perché ci sono dei rapper già come dire fatti e formati e delle persone che per la prima volta prendono prendono la penna in mano da questo punto di vista la creazione di un gruppo trasversale anche ovviamente in collaborazione con la biblioteca del carcere che è uno spazio fondamentale e gestito in maniera veramente fantastica ha fatto tutta la differenza del mondo anche un'emozione che è difficile da tirare fuori in carcere anche la debolezza anche la malinconia anche la tristezza anche il non sentirsi ovviamente al proprio posto è qualcosa che con la musica si riesce a tirare fuori meglio un'emozione tramite la musica tramite la scrittura non diventa più soltanto mia ma diventa condivisa è quello che stiamo vivendo in questi giorni ed è quello che stiamo provando a mettere insieme è uno di quei contesti dove se vedi scendere una lacrima quella lacrima pesa tanto e anche questo momento di commozione c'è stato ma ci sono stati anche dei momenti di allegria dei momenti di scherzo e sinceramente penso che la canzone che stiamo producendo in questi giorni metta un po' tutto quanto insieme quindi non vi resta che ascoltarla supportarla e farla girare grazie